Un torneo di bocce per ricordare Gianni Orani, tragicamente scomparso due anni fa. Una persona che ha lasciato un vuoto incolmabile sia nei familiari, ma anche in chi ha condiviso un percorso di vita all'interno del centro di urno del localizzato, del DSM e dell'ASL di Nuoro. E proprio la struttura diretta dal dottor Franco Salvatore del Rio ha voluto organizzare la seconda edizione del Memorial per ricordare Gianni. Una persona speciale che partecipava in maniera attiva ai diversi laboratori riabilitativi e dava una mano a chi aveva difficoltà sia al distinto nelle attività musicali e teatrali. Per segnalare inoltre la sua militanza nella formazione di calcio a 5 dei Kimbe Moros. La manifestazione sportiva è stata ospitata stamattina nella struttura del bocciodromo di Viale Sardegna, gestito dal circolo bocciofilo Pasquale Cocco di Nuoro, che ha curato anche gli aspetti organizzativi dell'evento sotto il profilo sportivo. Le squadre hanno partecipato sotto la direzione dei maestri nuresi di questa disciplina, Antonello Stellino, Franco Cambone, Salvatore Serra e Giuseppe Mattana. I partecipanti al torneo sono stati suddivisi in quattro squadre composte da quattro elementi ciascuna che si sono affrontate fino alla designazione della formazione vincitrice. Ma tutti i partecipanti al Memorial, oltre a ricevere coppe e medaglie, hanno vinto a prescindere dal risultato sportivo perché hanno ricordato un amico che non c'è più. Grazie. 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 Grazie.